Eccoci, grazie Seda Righi, partiamo subito con il dottor Doris. Con questa chiusura direi che possiamo anche chiudere e andare, possiamo stare tranquilli che i robo-advisor non ci minacciano. A parte gli scherzi concordo che non siano una grossa minaccia, però in parte lo sono, secondo me, per chi fa il mestiere di consulente finanziario. Nel passato abbiamo già vissuto un po' queste cose, trading online, quando è arrivato doveva sconvolgere il mercato perché devo pagare per i fondi e cose, ho il sistema che mi aiuta a scegliere i titoli, doveva sconvolgere tutto, non è successo. Ha cambiato le cose, certamente, ma non ho sconvolto tutto. Qui abbiamo il trading online più importante d'Italia, mi sembra che i fondi continuate a vendere e continuano a crescere. Però è sì un qualche cosa che è arrivato nel mercato e che devi avere, non puoi non offrirlo alla tua clientela. Poi sono arrivati gli ETF, dovevano distruggere il mondo dei fondi, gli ETF costano pochissimo, i fondi saranno distrutti, dovranno abbattere le commissioni. È un competitor in più nel mercato, ma non mi risulta che l'industria dei fondi sia scomparsa dal mercato, continua a crescere. arriva il RoboAdvisor, avrà, a parer mio, successo, forse anche in percentuali superiori a quelle visterie di là che ci si fermava nella ricerca a 5 anni, quindi quel 5-6% è assolutamente logico. Quando potrà arrivare? 15-20%, chi lo sa. Vedremo, sicuro si prenderà una buona fetta di mercato, non tutta. E ritengo che di nuovo, anche qui, qualunque banca dovrà avere un sistema di RoboAdvisory, secondo me, da offrire alla propria clientela. Chi non si dovrà preoccupare di questo, ritengo siano, come ha dimostrato anche la ricerca, per chi fa, si occupa di clientela private, ai network individuals, quindi gente con milioni, non penso che si affiderà a un sistema così mediamente per investire i propri risparmi. Cosa accadrà però a questi sistemi? Io prevedo una certa volatilità nei risparmi che gestiscono, prevedo buoni afflussi quando i mercati vanno bene e belle fuoriuscite quando i mercati andranno male. Perché? Perché partendo dal presupposto che l'algoritmo funzioni bene e che quindi faccia le scelte corrette, non è pensabile pensare a un investimento che cresce sempre. Avrà dei momenti, per quanto l'algoritmo ci azzecchi, dei momenti in cui il mio investimento scende, accadranno. E allora cosa accadrà? Che il cliente dirà il sistema non funziona. Mi ha fatto cambiare questo e quello, io ho fatto e perdo, non va. E quindi in quei momenti di mercato, secondo me, avranno fuoriuscite. Poi il mercato riprenderà e rivedranno di nuovo delle entrate. Poco male, rimarranno nel mercato e avranno la loro fetta. I clienti ne trarranno beneficio? Ma, non lo so. È vero che il costo, se pagano 30 dollari al mese e sceglieranno, immagino, fondi con commissioni bassissime, il vantaggio è importante. Ma il rendimento al cliente arriva da quando compra e quando vende. Certo il pricing influisce, ma ha un'influenza minima. Riporto due esempi che di solito faccio velocemente. Stati Uniti, anni 70-80, fondo Magellan Fan di Fidelity, questo fondo d'anni di 13 anni che è stato gestito da Peter Lynch, un rendimento medio anno del 29%, ok? Pazzesco. Medio però, eh? La metà dei clienti che hanno investito in questo fondo hanno perso soldi. Come è possibile? È un fondo che comprano a 100, il fondo scende a 95, si spaventano, vendono, poi il fondo va a 120, ma il cliente è fuori e ha perso soldi. In Italia, con anima, stessa cosa, molto più, nel 95-2004, un loro fondo poi mi ha dato 10,9% all'anno, la metà dei clienti hanno perso soldi. L'ultima di cui sono venuti a conoscenza fin allo scorso anno, Fidelity ha fatto una ricerca sui propri clienti per capire qual era il profilo di cliente che storicamente aveva avuto i migliori risultati, in modo da cercare di poi replicarla e insegnare anche agli altri. Cosa hanno scoperto? Che quelli che storicamente avevano avuto i migliori rendimenti erano quelli che si erano dimenticati che avevano l'investimento con Fidelity. Allora, quando il mercato scende, il consumente finanziario è lì che gli dice adesso investiamo, non ho liquidità, allora non tocchiamo niente. Quando se sei lì davanti al computer gli taglia del dito. Di fronte al RoboAdvisor, cosa fa? Vende. Quindi secondo me ci saranno sì pricing, costi molto più bassi per la clientela, che i loro risultati saranno migliori, ho forti dubbi. Mediamente. Chi farà meglio? Per carità di Dio ci sarà, ma mediamente secondo me i clienti otterranno dei risultati peggiori. Detto questo, secondo me si deve investire nel RoboAdvisor perché non si può andare contro il mercato, contro il mondo. È una cosa che ogni banca secondo me dovrà avere.